Nella popolare SOP opera Terra Amara, trasmessa su Canale 5, il pubblico sarà testimone di un evento tragico e sconvolgente, la morte di Müjgan, madre del piccolo Kerem Ali. Questo triste episodio si svolgerà in un contesto drammatico, con Müjgan che perderà la vita in un disastroso incidente aereo. Il velivolo, in viaggio verso la vivace città di Istanbul, si schianterà in circostanze tragiche, lasciando la comunità della SOP opera in uno stato di dolore e incredulità. Questo evento rappresenterà un punto di svolta nella trama della serie, coinvolgendo profondamente i personaggi e gilei spettatori. Müjgan, raffigurata come una madre amorevole e devota, era una figura chiave nella vita del piccolo Kerem Ali. La sua improvvisa scomparsa getterà una lunga ombra sulle vicende future della serie, influenzando non solo la vita del suo giovane figlio, ma anche quella di tutti coloro che la circondavano. La tragedia colpirà particolarmente Fekeli, un personaggio già provato dalla perdita di Yilmaz, un altro caro membro della comunità di Terra Amara. Fekeli, conosciuto per la sua forza e resilienza, si troverà a dover affrontare una nuova e dolorosa realtà, la perdita della sua figlioccia Müjgan. Questo lutto aggiungerà un ulteriore strato di complessità e emozione alla sua storia, esplorando temi come il dolore, la perdita e il superamento delle avversità. La comunità di Terra Amara sarà fortemente influenzata da questa tragedia. Gli abitanti della sua popera, legati da rapporti di amicizia, amore e rivalità, si troveranno a condividere un senso di perdita collettiva. La scomparsa di Müjgan, così improvvisa e inaspettata, porterà riflessioni sul valore della vita e sui legami familiari e comunitari. Il destino di Kerem Ali, il figlio orfano di Müjgan, sarà uno degli aspetti più commoventi della trama. Gli spettatori seguiranno con apprensione la sua storia, vedendo come un bambino così piccolo, affronta la perdita della madre. Il modo in cui Kerem Ali verrà accudito e sostenuto dalla comunità, e in particolare da Fekeli, sarà un punto focale, mostrando l'importanza del sostegno e dell'amore in tempi di crisi. Inoltre, la tragica scomparsa di Müjgan potrebbe aprire nuove dinamiche nella trama di Terra Amara. Personaggi che prima erano in disaccordo potrebbero trovare un terreno comune nel loro dolore condiviso, mentre altri potrebbero essere spinti a prendere decisioni importanti sulla loro vita e sulle loro relazioni a causa di questo evento sconvolgente. In conclusione, la morte di Müjgan nella soap opera Terra Amara non sarà solo un altro evento tragico nella narrazione, ma un momento che cambierà profondamente la vita dei personaggi e toccherà emotivamente il pubblico, riflettendo sui temi universali del dolore, della perdita e della capacità umana di trovare forza e speranza anche nei momenti più bui. Müjgan, determinata a ricominciare da capo. Nelle prossime puntate della serie, vedremo Müjgan decisa a rifarsi una vita lontano da Şükürova, scegliendo Istanbul come sua nuova destinazione. Un ospedale privato le ha fatto un'offerta di lavoro molto vantaggiosa e, dopo varie esitazioni, Müjgan accetterà di trasferirsi. Anche se inizialmente riluttante a lasciare Şükürova a causa del suo amore per Fikret, la scoperta che Fikret era presente quando Umit ha rischiato di perdere la vita, un incidente per cui Demir è stato accusato di tentato omicidio, spingerà Müjgan a chiudere con lui. La decisione di lasciare Şükürova sarà quindi il modo migliore per lei di voltare pagina, sebbene con grande sofferenza. Müjgan cerca una nuova casa a Istanbul per sé e perché Remali. Quando si renderà conto che Fikret non ha intenzione di cambiare atteggiamento e che continuerà la sua vendetta contro Demir, Müjgan deciderà di accettare l'offerta di lavoro dell'ospedale. Fekeli e Lütfiye la sosterranno in questa decisione. Saranno loro a prendersi cura di Kerem Ali mentre Müjgan partirà per Istanbul alla ricerca di una nuova casa. Dopo aver trovato un nuovo posto dove vivere, Müjgan tornerà a Şükürova per prendere suo figlio. Prima di partire per l'aeroporto regalerà a Kerem Ali un fazzoletto, un gesto affettuoso per far sì che il bambino non si dimentichi di lei. Nessuno avrebbe potuto immaginare che quello sarebbe stato un addio definitivo. L'ultimo saluto a Müjgan. La notizia dell'incidente aereo che ha causato la morte di Müjgan arriverà a Fekret, Fekeli e Lütfiye tramite la radio, lasciandoli senza parole. La tragedia colpirà duramente Fekret, che aveva in mente di chiedere a Müjgan di sposarlo al suo ritorno da Istanbul. La notizia della tragica scomparsa di Müjgan si abbatte su Fekeli come un colpo devastante. Già segnato profondamente dalla perdita di Yilmaz, si ritrova ora a dover affrontare un altro dolore immane, la morte di un'altra figura tanto amata e vicina a lui. Questo nuovo lutto lo getta in uno stato di profondo turbamento, riempiendo i suoi giorni e le sue che ora si trova ad affrontare una realtà crudele e ingiusta. Crescere senza la presenza amorevole e rassicurante della madre. Questa consapevolezza rende il dolore ancora più acuto per Fekeli, che si chiede come il bambino riuscirà a superare una perdita così grande a una così tenera età. Immagina i momenti di confusione e tristezza che il piccolo dovrà affrontare, i giorni in cui cercherà in vano la figura materna, ora irrimediabilmente assente dalla sua vita. Nel frattempo, Lutfiye è anch'essa pervasa da un senso di colpa straziante. Sebbene avesse agito con le migliori intenzioni, aiutando Mugan a ottenere un'opportunità lavorativa a Istanbul, ora non può fare a meno di chiedersi se in qualche modo ha contribuito al tragico destino di Mugan. Questi pensieri la tormentano, lasciandola con un peso sul cuore che sembra insopportabile. Si chiede ripetutamente se avrebbe potuto fare qualcosa di diverso, se ci fosse stato un modo per prevenire la tragedia. Ogni angolo della casa di Fekeli sembra ora risuonare del silenzio lasciato da Mugan. I ricordi di lei alleggiano in ogni stanza, in ogni oggetto che aveva toccato o in ogni sorriso che aveva condiviso con loro. La sua assenza è un vuoto che sembra impossibile da colmare. Fekeli, in questi momenti di riflessione e dolore, si ritrova a ripercorrere i momenti trascorsi insieme a Mugan, ricordando le sue risate, il suo coraggio, la sua determinazione e quanto fosse diventata parte integrante della loro vita. La comunità intorno a loro, conoscendo la bontà e l'amore che Mugan aveva sempre dimostrato, condivide il loro dolore. Molti si avvicinano per offrire conforto, raccontando storie di come Mugan avesse influenzato positivamente le loro vite. Questo affetto collettivo è una piccola consolazione per Fekeli e Lütfie, un promemoria che, sebbene Mugan non sia più tra loro fisicamente, il suo spirito e il suo impatto continueranno a vivere nei cuori di coloro che l'hanno conosciuta e amata. In questi momenti di immenso dolore, Fekeli e Lütfie si ritrovano a riflettere sulla fragilità della vita e sull'importanza di ogni momento trascorso con le persone care. Si promettono di prendersi cura l'uno dell'altra e di offrire tutto il loro amore e sostegno a Kerem Ali, impegnandosi a garantire che il bambino cresca sapendo quanto sua madre fosse straordinaria e quanto fosse amata da tutti coloro che la circondavano. L'intera comunità di Shukurova si unirà nel cordoglio durante il funerale di Mugan. Saranno Fekeli e Fikret a prendersi cura delle esequie, onorando la memoria di una persona tanto amata. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara.